Prosegue la lotta del comando di polizia locale di Sassari contro chi conferisce rifiuti in aree e in orari non autorizzati. Solo negli ultimi 5 giorni è stato individuato il responsabile dell'abbandono di numerosi bustoni di rifiuti sulla careggiata di via Canopolo. L'uomo è stato identificato grazie ad alcuni documenti contenuti nelle buste, tra cui una ricevuta rilasciata da un'agenzia specializzata nella ricerca dell'anima gemella, attestante il pagamento di un acconto di 250 euro. Sempre al centro storico in via San Donato sono state sanzionate quattro persone che tra le 6 e le 7 del mattino conferivano illecitamente rifiuti nei cassonetti. Sempre in via Donato, la scorsa notte, alle 24 è stato sanzionato un diciottenne del Bangladesh, ospite di un centro di temporanea accoglienza, notato dagli agenti borghese intento a conferire nel contenitore dell'umido un bustone nero contenente rifiuti indifferenziati. Ieri a Predaniedda sono stati rinvenuti oltre 10 metri quadri di rifiuti abbandonati nella notte. Il contenuto dei bustoni, costituito da scarti di tendaggi ed altri rifiuti assimilabili, oltre che da ricevute redatte su carta intestata, ha permesso di denunciare una ditta artigiana con sede nella stessa zona industriale. Peraltro già denunciata lo scorso anno. A Caniga e specificamente in località Mandrea di Lainu sono stati contestati quattro verbali ad altrettanti trasgressori per l'abbandono incontrollato di rifiuti domestici. In via Pirandello sono state sanzionate alcune persone residenti in altri comuni immortalate dalle telecamere mentre conferivano rifiuti nei cassonetti di via Pirandello. Questa mattina si è proceduta la bonifica di un'area inquinata in località Scala di Giocca con la rimozione di alcuni veicoli e sono stati contestati ai responsabili dell'inquinamento gli illeciti accertati. Infine si sta rivelando utilissima la collaborazione offerta dalla locale compagnia barraccellare.